No comment, no comment, no comment, no comment, no comment, no comment Lukaku è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli Finalmente questa telenovela ragazzi, stava durando più di Beautiful, si conclude qua Finalmente, direi anche finalmente perché già mi ero abbastanza rotto ragazzi Ero abbastanza sicuro, abbastanza sicuro, che andasse a finire così Adesso bisognerà capire il futuro di Osimel Ma poco importa, poco importa Allora ragazzi, prima di partire col video, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campbellina E lasciate una marea di mi piace sotto questo video Allora, Lukaku finalmente approda a Napoli Finalmente Conte ritrova il suo pupillo Perché che sia il pupillo di Conte ragazzi, è abbastanza scontato Con Conte, Lukaku ha espresso il miglior calcio della sua carriera Parliamo di un calciatore che, parlando di succo Succo ragazzi, no? Perché è inutile partire dal 2009 all'Underlecht e così via Comincia in maniera seria la sua carriera nel 2013 A pro dall'Everton Dal 2013 al 2017, fa 4 anni Segnando 68 gol in 141 presenze Un gol ogni due partite, due partite è qualcosa Poi vallo United dal 2017 al 2019 Parentesi discreta 66 presenze, 28 gol Poi ragazzi, l'Exploit Il periodo migliore della sua carriera, senza dubbio Perché dal 2019 al 2021 A pro dall'Inter Con Conte Ripeto che per il gioco che propone Decide, o comunque riesce A far rendere Lukaku a livelli in cui non è mai arrivato Facendo in 72 presenze 47 gol Rincendo lo scudetto Il diciannovesimo scudetto Dopo tantissimi anni Da praticamente dominio bianconero Poi praticamente ragazzi Ritorno al Chelsea per un anno Perché ragazzi Era l'offerta che voleva da Da bambino ragazzi Lui sognava fin da bambino Di giocare al Chelsea Però ragazzi Parentesi da dimenticare 26 presenze E solo 8 gol Cioè stiamo parlando di un gol Ogni più di tre partite Fatto sta che Il sogno che aveva fin da bambino Si interrompe ragazzi Perché in realtà lui Ricordava male In realtà il suo sogno era quello di Ritornare all'Inter E praticamente dal 2022 2023 torna all'Inter 25 presenze 10 gol Tanti infortuni La finale di Champions Persa Ce lo ricordiamo bene Caro Romero Lukaku E poi praticamente La parentesi Alla Roma Dove Ha fatto qualcosina Però ragazzi Sicuramente è lontano anni luce Dal Lukaku dell'Inter 2023-2024 A Roma Con 32 presenze E 13 gol Allora Poi praticamente ragazzi Torna al Chelsea Dopo il presido Alla Roma Ma adesso ragazzi Il Napoli lo acquista Titolo definitivo Non si tratta più di presidi Adesso ragazzi È proprio a tutti gli effetti Un nuovo calciatore del Napoli Il Napoli Verserà Nelle casse del Chelsea 30 milioni 30 milioni Di cui questi 15 Sono praticamente Raggiungibili con bonus Non ho capito bene Tutta la situa Però comunque la cifra Si aggira sui 30 milioni Oltre i 30 milioni Il Napoli Verserà In caso Ipotetica In caso ipotetico Negli anni Di una cessione di Lukaku Il 15% Della futura rivendita Quindi finalmente ripeto Antonio Conte Ritrova il suo pupillo Ora ci sarà Bisogno di vedere Quale sarà il livello Di Romelu Lukaku Ragazzi perché Allora A me come persona Non piace Ragazzi per me Poco professionista Persona poco attaccata Ai valori È tutto Poco rispettosa Ma non dico Che sia scarso A me Ripeto Un calciatore Può stare antipatico Ma se viene Nella mia squadra E fa bene Io non è che mi ci devo andare A coricare a letto Ragazzi Cioè Parliamoci chiaro Questa cosa di quando è arrivato Vi faccio un esempio Proprio random No Arriva Quadrado all'Inter Quadrado ha fatto cagare Perché è stato infortunato Tutta la stagione Però ragazzi Se avesse fatto Una stagione clamorosa Io avrei applaudito Quadrado Sicuramente Non mi sarei mai ripreso Un Lukaku all'Inter Dopo quello che ha fatto Non me lo sarei ripreso Neanche l'annata Nel 2022 Dopo che ha fatto Tutto quel casino Col Chelsea Ce lo siamo ripresi E si è comportato Di nuovo veramente male Allora Ma fa bene Ripeto Il Napoli Ha bisogno Di un attaccante Come Lukaku Ragazzi Allora Conte a me piace Come Elena Perché ha un bel gioco Solito in difesa Ed è bravissimo Nelle ripartenze Sicuramente Ripeto Uscito da questi schemi Conte forse Non è Così Come possiamo Dire così Prorompente No Però ho fatto Stare ragazzi Che il suo calcio Quando gioca Quando allena Una squadra Come sa fare lui Sappiamo bene ragazzi Che i risultati Si vedono Lui è un allenatore Che chiede Chiede ai calciatori Chiede alla società Chiede al presidente Perché ripeto Ora io non so Se con questo acquisto Conte sarà soddisfatto O meno Della campagna acquisti Perché parliamoci chiaro Conte Anche quando vinse Lo scudetto Con l'Inter Lascia la squadra In quel momento Più in forma E più forte d'Italia Perché decide Di andarsene Perché chiede Poi a Zhang Per la prossima stagione Almeno 2-3 acquisti Buoni Zhang cosa gli dice Guarda Bello mio Io i soldi Per fare questi 2-3 acquisti Non ce li ho Conte cos'è che fa Prende e fa le valigie Ma è giusto così ragazzi Io non sono ormai più A favore di quegli allenatori Che si fanno andare bene tutto Anche con i propri valori È giusto Che se tu mi paghi Vuoi vincere Io ti vinco Ma mi devi dare I calciatori che voglio Senza magari Spese esorbitate Perché alla fine ragazzi Sono 30 milioni Ragazzi stiamo parlando Di una cifra clamorosa È vero che ormai In Italia quando si spendono 30 milioni Veramente È clamoroso Però alla fine Sono 30 milioni Ora ripeto Bisogna vedere Quello che è il livello Di Lukaku Perché l'abbiamo vista La Roma Livello abbastanza discreto Nulla di clamoroso Questo però ragazzi Non toglie il fatto Che ripeto Secondo me Conte È il calciatore Sì vabbè il calciatore È l'allenatore Che a livello di gioco Riesce a far rendere Meglio Romeno Lukaku Ragazzi Perché è il classico giocatore E Boa In avanti Fisico Se dovessero mettersi in forma Perché qualche chilo L'ha preso Dovrebbe perdere qualche chiletto Ragazzi Ricordiamoci Lukaku dell'Inter Quando vinse lo scudetto Ragazzi Nonostante i suoi 100 kg O quasi Ragazzi Aveva uno scatto Veramente clamoroso Aveva uno scatto Clamoroso Fisico Fisico Ma nonostante ciò Ragazzi Aveva uno scatto Incredibile E prorompente Di ripartenza Era il classico calciatore Che si prendeva Tutti i palloni Si prendeva Tutti i palloni Faceva sentire la squadra E poi ragazzi In contropiede L'Inter Di quei tempi Era clamoroso Ora Bisogna capire Anche quello Che è Romeno Lukaku Perché oltre che fisicamente Bisogna starci mentalmente Ripeto All'Inter Ragazzi Aveva tutto Il supporto Di tutti Riusciva a rendere bene Aveva la squadra Che praticamente Si fidava al 100% Tifosi idem L'allenatore idem Ripeto Vai in una situazione Vai in un Napoli In cui la situazione È nettamente diversa Un Napoli Che praticamente Arriva da un'annata Veramente imbarazzante Un decimo posto Arriva in una tifoseria Sicuramente anche questa Che richiede tanto Chiede tanto E vuole tanto Come è giusto che sia Una piazza come Napoli È bella 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 Difficile da gestire Ma ragazzi Se hai la testa Per gestirla bene E per non sentire La pressione Si potrebbero fare Grandi cose Poi sicuramente Napoli è una piazza Che ragazzi Non è abituata A vincere chissà cosa Quindi quando vinci Veramente Te lo ricordi Per tutta la vita Come appunto È successo Con Spalletti Ripeto Bisognerà vedere Sia fisicamente Sia Come sarà messo mentalmente Ripeto Fisicamente Ripeto Secondo me Qualcosina da migliorare C'è Ma soprattutto Ragazzi mentalmente Perché ragazzi Il Romelu Lukaku Di Praticamente Quando è stato Quattro anni fa Dal 2020 Praticamente Sì Quattro anni fa Non è più ragazzi Il Romelu Lukaku Che abbiamo visto al Chelsea Non è più il Romelu Lukaku Che poi abbiamo rivisto all'Inter Che poi abbiamo visto alla Roma Sicuramente Sicuramente Antonio Conte È un allenatore Che lavora tanto Su questo ragazzi Sulla testa Sulla mente Di un calciatore Vedremo se riuscirà Secondo me ragazzi Lukaku farà una buona stagione Ma secondo me Ai livelli Dell'Inter Del 2020 Dallo Scudetto Secondo me Non ci arriverà Però ragazzi Secondo me Farà veramente Un'ottima annata Perché Conte È l'allenatore Giusto per lui E riuscirà a farlo rendere Nel migliore dei modi Se dovessi dare un voto Invece Per quanto riguarda Il valore Quello che può dare Lukaku al Napoli Do 8 Se devo dare Un voto Per rapporto Con il prezzo Ragazzi Do un 6 e mezzo Perché comunque Sono 30 milioni Perché alla fine Lukaku Non è più il Lukaku Di 3-4 anni fa Quindi bisognerà vedere Il progresso E quello appunto Che riuscirà A produrre E a migliorare Lukaku Durante la stagione Mi raccomando Fatemi sapere Qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Di questa trattativa Quindi fatemi sapere Un voto Qui sotto Nei commenti Da 1 al 10 Metterò like A tutti quelli Che commentano Mi raccomando Ragazzi Iscrivetevi al canale A spettare la campelina Non ci vediamo Con un prossimo video E ciao ragazzi